Una giornata di formazione delle donne innerwill distrettuale qua ad Arezzo. Arezzo è una città dove esiste un club, il club di Arezzo già da diversi anni, però in particolare abbiamo voluto privilegiare che questa giornata di formazione fosse organizzata dal nuovo club innerwill di Arezzo, che è Arezzo Toscana Europea. Ed è un club veramente attivissimo, è nato un anno fa, il 5 marzo dell'anno scorso, e devo dire che si sta comportando veramente molto bene. Per questo il distretto ha pensato di premiare questa città e questo club con questa giornata di formazione. Siamo oltre 110, provenienti dalla parte tirrenica del distretto, perché il distretto innerwill, che ho l'onore di presiedere come governatrice, comprende ben sei regioni, tutto il centro Italia, e siamo mille soci. Formazione importante perché ovviamente la ossatura, la struttura dell'innerwill si basa su delle norme. Norme che sono divise in due contenitori, lo statuto, che è valido per tutte le soci del mondo, cento e passa mille soci presenti in 104 paesi del mondo, e il regolamento Italia, che è solo per le soci italiane. Dal nord al sud, alle isole, l'Italia è divisa in sei distretti. E il Consiglio nazionale, che io in questo momento sovrintendo come vicepresidente, ma dal primo luglio come presidente del Consiglio nazionale, è proprio quello di sovraintendere e coordinare il lavoro dei sei distretti. Quindi riuscire a far girare questa ruota in maniera, diciamo, attiva su tutta l'Italia. Ecco, particolarmente attivo anche il club Aretino. Quanto c'è nel futuro di questo club? Nel club ci sono molte, le socie sono giovani, attive. Hanno abbracciato gli ideali di amicizia, che sono gli ideali frettamente dell'inner wheel, perché tutto ciò che si può fare in amicizia, intesa come stima, rispetto, fiducia, si ottengono dei risultati che in nessun'altra maniera si potrebbero raggiungere. Grazie a tutti.